Per a tutti ragazzi bentornati qua con un nuovissimo video, oggi siamo qua come sempre tornati su Fortnite Come avete visto ho un po' rimpicciolito la webcam e l'ho messa in basso a sinistra Perché da come avete letto dal titolo oggi andremo a vedere il trailer della season 8 Della nuova season 8 ragazzi che davvero manca pochissimo andiamo subito a vedere E infatti mancano 4 giorni al termine Se anche tutti voi ragazzi non vedete l'ora e shopperete la season 8 o meglio la prenderete gratis Lasciate un bel pollicione qua sotto al video E ovviamente scrivetemi anche nei commenti cosa pensate voi di questa season 8 che arriverà Di che cosa si tratta non lo so scrivetelo qua sotto nei commenti Comunque ragazzi eccoci qua tra pochi secondi andremo a vedere il trailer Intanto come vedete mancano 4 giorni al termine Qua abbiamo le sfide che se le completiamo tutte 13 ora sono 9 su 13 Ma se le completiamo tutte 13 ci danno ci regalano il passo battaglia della stagione 8 gratis Quindi mi raccomando fatele Lo shop di oggi vabbè è questo qua ragazzi Io direi di incominciare ad andare a fare la reaction e vedere il trailer della season 8 Ovvero questo video che tutti parlano che tutti guardano Andiamo a vederlo anche noi Eccolo qua Cosa troviamo? Troviamo il mondo, la città, la mappa La regina dei ghiacci Vediamo cosa ci farà vedere ragazzi Ok Andiamo giù addirittura sotto terra Sott'acqua addirittura Eh ma ragazzi l'avevano detto Infatti avevano detto che è possibile che tema season 8 sia proprio l'acqua Vediamo Vulcano Vediamo Vediamo Eccolo qua Chi è? Chi è ragazzi questo? Potrebbe essere magari il re dell'acqua? Non lo so come lo chiamiamo Ci sono tutti i re Ormai abbiamo visto fuoco e ghiaccio Cos'è un'acqua? Poi ci sta la terra? Vediamolo Eccolo qua E infatti si sembrerebbe ragazzi il re dell'acqua Questi qua non stanno niente Oh Oh Il vulcano No vabbè Oh Vulcano Lo sapevo Lo sapevo che il vulcano c'entrava Comunque avete visto che Nell'immagine precedente C'era il puntino giallo Quello che vado sempre a vedere io Anche da qua si vede Peccato Il puntino con là Eh Oddio Che è qui? Che è? Che è questo? Comunque la regina non sa niente Stupita Porca Eva Che drago Minchia non pensavo Ok draghi 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 Ma così grosso? Madonna Mamma mia ragazzi Non vedo l'ora Cioè non vedo l'ora Della season 8 Veramente Di questi eventi Che stanno per arrivare Tutto raga Le crepe Tutto Season 8 A noi Questo video ragazzi Mi è piaciuto Molto Se anche così per voi Lasciate un bel like Quindi c'è dato un po' di spoiler A questo video ragazzi Dicono che La season 8 Il tema Eh Possa essere infatti L'acqua E abbiamo visto L'evento Vulcano Ovvero il vulcano Che comunque Spruzza tutta la lava Ragazzi E infatti Si parlava di quel vulcano lì E non c'è nient'altro da dire ragazzi Bisogna solamente Attendere questi 4 giorni E vedere cosa succede Anche perché Sono rimaste ancora Poche crepe Sulla mappa Vedremo poi Le ultime crepe Cosa formeranno Cosa faranno Quindi niente ragazzi Il video di oggi Può terminare qua Spero che vi sia piaciuto Spero che abbiate apprezzato Questo video qua ragazzi Che a me è piaciuto un casino Lasciate un bel like Se è così Iscrivetevi tutti al canale Attivando la campanella Mi raccomando Se siete nuovi E anche quelli vecchi Attivatela anche voi E niente ragazzi Non ho niente dato da aggiungere Noi ci vediamo con un prossimo video Bella ragazzi